Secondo lei Berlusconi sta facendo una legge, appunto il legittimo impedimento che sa già essere incostituzionale? Beh, Berlusconi non si è mai preoccupato dell'incostituzionalità delle leggi. Il legittimo impedimento è incostituzionale per una elementare ragione. Anzitutto perché mette in condizione un cittadino che come tale, davanti alla legge da considerare alla stregua di qualsiasi altro, lo mette in una condizione di assoluta superiorità e quindi questa è la prima ragione. La seconda ragione è che da che mondo è mondo il codice di prescrizione penale ha lasciato sempre al magistrato il controllo sulla esistenza del legittimo impedimento. La presunzione di legittimo impedimento, per di più sulla base di autocertificazione dell'imputato, credo che sia il massimo... Perché sarà la stessa presidenza del Consiglio per autocertificare. Esatto, immagini un po'. Insomma, dice Taormina, potrebbe essere in sé giusto il fatto che se un uomo di governo, non solo il Presidente del Consiglio, ha cose più importanti da fare per il bene del Paese, beh, allora in quel caso il giudice può aspettare un po' per giudicarlo. Ma chi decide quali sono le circostanze di forza maggiore deve essere la legge che le deve indichiare con chiarezza. E poi chi decide se quelle circostanze effettivamente sono operanti, beh, allora deve essere il giudice, perché se no potrebbe passare il principio che il Presidente del Consiglio e gli uomini di governo più in generale, insomma, in realtà siano loro a decidere quando sottoporsi a rigore della legge. Io vorrei soltanto dire una cosa, che ogni volta che sono state fatte leggi ad personam, io ne sono stato anche l'artefice, un po' quel protagonista nella legislatura che mi ha visto deputato. Legittimo sospetto in questo caso. Legittimo sospetto, ex cirielli, legislazione societaria, falsi in bilancio, rogatorie e quant'altro. Lei ne ha fatte, insomma, di leggi? Certo, le abbiamo fatte tutte le leggi ad personam. Le abbiamo fatte tutte. Il punto era questo, che ogni volta che si avviava un percorso di approvazione di una legge ad personam, noi ci rendevamo perfettamente conto che in realtà si trattava e si affrontava una questione importante. Il punto era questo, che il momento ispirativo della normativa era sempre di carattere personale. D'altra parte nella vicenda del processo breve è accaduta esattamente la stessa cosa. E' successo che una volta intervenuta la sentenza sulla questione Mills, si sono posti i problemi nel processo breve. Mai nessuno si è inventato di discutere del processo breve. Questo ha dimostrazione che lo spunto, l'avvio è quello. Quindi è un bel problema questo delle leggi ad persona, ma secondo uno che le ha fatte. Insomma, io non posso fare una legge che escluda il Presidente del Consiglio, perché anche quella sarebbe una legge ad persona, e non posso fare nemmeno una legge che vada a favore del Presidente del Consiglio soltanto a suo favore. Questo in Italia è un gran bel problema, infatti vedete come conclude. Non si è mai posto una questione morale mentre approvavate queste leggi? Non c'era una questione morale. Per me, laddove ci fosse stata l'esigenza di risolvere un problema generale, e nell'ambito di questo problema generale venisse risolto anche il problema di Berlusconi, siccome, come lo dichiaro incostituzionale il legittimo impedimento, dichiaro incostituzionale l'Odolfano 1, l'Odolfano 2, dal punto di vista quantomeno giuridico, piuttosto che formale, così dico che sarebbe incostituzionale la norma la quale, risolvendo un problema generale, dice no, Berlusconi mettiamo da un canto. Questo mi pare che nessuno lo possa pretendere. Quindi in questo senso noi abbiamo lavorato. Certamente poi spesso ci siamo resi conto che invece, più che creare questa sinergia tra generale e particolare, eravamo fonte di strumentalizzazione. E di qui la crisi di coscienza. Però ribadisco, io me ne sono andato dal Popolo da Libertà, anzi ancora prima che si costituisse il Popolo da Libertà, non perché mi sia dimesso, ma mi sono allontanato perché sono stato cacciato, perché io intendevo fare la mia battaglia dentro al partito. La cosa che mi colpisce nel suo ragionamento è che alla fine è un Presidente del Consiglio che usa il proprio potere per risolvere le sue questioni personali. Questo è il difetto del bipolarismo. Il bipolarismo ha dato a Berlusconi, o al Presidente del Consiglio di Turno, uno strapotere assoluto. Non casualmente i parlamentari sono nominati e non casualmente non esiste una democrazia interna ai partiti, al partito, parlo del Popolo da Libertà, perché il miglioratore non deve essere disturbato. Il partito che controlla, che elabora, dà fastidio. Il parlamentare che dice qualcosa di più di quello che deve dire, oltre che alzare la paletta, è un altro elemento di deturpamento della logica assolutistica del capo. E quindi è logico che fa tutto quello che vuole. Questa è la logica che... La logica è questa. Fa tutto quello che vuole. Io non lo so se la logica è questa e se Taormina ha ragione, perché se avesse ragione ti verrebbe subito in mente la citazione del Belli dentro il Marchese del Grillo. C'era una volta un re che dal palazzo tirò fuori all'ipopolis, e ditto, io sono io, e voi non siete un capo. Questo servizio è eccellente. La politica deve essere sottoposta ai rigori della legge, sì o no? La politica è sempre sottoposta ai rigori della legge, però veda, quando lei fa andare in onda un servizio come quello dell'Avvocato Taormina, fa un po' sorridere, perché l'Avvocato Taormina, come lei ricorderà, si dimise, anzi non si dimise, fu sfiduciato da sottosegretario, perché disse che i magistrati di Milano devono essere arrestati ed eravamo appunto nel processo che poi fu paralizzato con la soluzione perché il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto del processo SME a Riosto in cui lui stesso, cioè l'Avvocato Taormina, votò il Lodo Schifani. Votò il Lodo Schifani che era molto di più del Lodo Alfano e molto molto di più di quello che oggi è il legittimo impedimento. Ora, l'Avvocato Taormina sostiene che il legittimo impedimento è incostituzionale, perché creerebbe una sorta di automatismo e ci sarebbe una sorta di autocertificazione. Ma veda, è difficile poter pensare... Non è l'unico, perché i giornali stamattina sono altri molto autorevoli che dicono la stessa cosa. Altri sostengono esattamente il contrario, con altrettanta autorevolezza, perché quando si tratta di certificare un impedimento istituzionale da parte del Presidente del Consiglio oppure di un Ministro, non è facile trovare un soggetto che possa farlo esterno all'organizzazione ministeriale. E quindi la scelta, a mio parere, del legislatore di indicare nella Presidenza del Consiglio che è un organo amministrativo, ancorché interno, e che si assume una responsabilità, di certificazione di una determinata situazione... Il Presidente c'è da fare o il Ministro c'è da fare... Il Presidente c'è da fare ed ha una certificazione. È ovvio che il giudice poi, siccome c'è un richiamo espresso all'articolo 420 ter, potrà valutare la veridicità e la congruità di quell'impedimento. Quindi un potere valutativo al giudice aspetta sempre, altrimenti ritorneremo nell'automatismo del lodo Alfano e del lodo Schifani che sono stati, a mio parere, a torto, ma tant'è, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che sono stati dichiarati incostituzionali e non si può certamente fare una legge identica. Cosa dice il magistri di questo? A me fa un po' sorridere il discorso di Taormina, rimanendo in temi di mafia, perché sembrano le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia con riscontri esterni, che sono date dalle leggi. Cioè, Taormina dice la verità. Legge ad persona, i miei riscontri sono le leggi. Da ultimo, basta vedere le quattro leggi che sono sul tappeto. Una è il processo breve, che serve a Berlusconi per evitare il processo Mills. Se poi ci sono effetti collaterali su migliaia di persone offese e vittime, non importa. Siccome il Presidente del Consiglio ha altri processi, non basta questa legge, è legittimo impedimento. Cioè, non vai dal giudice perché è un legittimo impedimento che ha altri certifici. Nemmeno questo è ancora sufficiente, perché qualche giudice potrebbe ritenere che magari alcune serate del Presidente del Consiglio non sono legittimo impedimento. Scatta il lodo alfano, cosiddetto incostituzionale, lo scudo personale definitivo, e nemmeno è sufficiente, perché per approvare una legge costituzionale ci vuole del tempo e c'è la quarta legge che vogliono approvare, quella presentata dall'onorevole del PDL, lo senatore Valentino, che vuole cambiare la legge sui collaboratori di giustizia.